chi è cinzia dal pino la donna che ha investito e ucciso l'uomo che un tragico evento a viareggio un tragico evento a viareggio nella città costiera italiana di viareggio si è verificato un tragico incidente che ha sconvolto la comunità locale una donna cinzia dal pino era al volante di un veicolo che ha investito e ferito mortalmente un uomo secondo i rapporti la vittima era un uomo di 55 anni che si trovava su una strada molto trafficata a viareggio per la famiglia colpita questo incidente rappresenta una perdita incommensurabile ecco il testo tradotto in italiano le circostanze che hanno portato all'incidente mortale sono ancora poco chiare secondo le prime indagini condotte dalla polizia sembra che l'uomo stesse attraversando la strada quando è stato colpito dal veicolo le autorità hanno iniziato a interrogare i testimoni e ad analizzare la scena dell'incidente per avere un quadro più chiaro della notte che ha portato a questo terribile evento secondo quanto riferito da testimoni oculari la strada su cui è avvenuto l'incidente era molto trafficata in quel momento il luogo dell'incidente è stato immediatamente chiuso dai socorritori e si dice che i paramedici abbiano cercato di aiutare l'uomo sul posto nonostante i loro sforzi la vita della vittima non è stata salvata lo shock per l'incidente era palpabile nella comunità mentre la notizia si diffondeva rapidamente cinzia dal pino identificata come la conducente responsabile ha mostrato un comportamento collaborativo dopo l'incidente secondo le informazioni della polizia ha esposto la sua versione dei fatti durante le indagini il carico emotivo è stato per lei enorme e già nella prima notte dopo l'incidente ha espresso il suo dolore e la sua disperazione per quanto accaduto nach ersten Berichten scheint sie von den tragischen Konsequenzen ihrer Fahrt schockiert und betroffen zu sein der Vorfall hat erneut einen Diskurs über Verkehrssicherheit und das Fahrverhalten in urbanen Gebieten angestoßen in Viareggio, einer Stadt, die für ihre schönen Strände und lebhaften Straßen bekannt ist, gibt es häufig Diskussionen über die Notwendigkeit von sichereren Verkehrsbedingungen. Behörden und Anwohner fordern, dass dringend Maßnahmen ergriffen werden, um ähnliche tragödie in der Zukunft zu verhindern. Secondo i primi rapporti, sembra che sia scioccata e colpita dalle tragiche conseguenze del suo viaggio. L'incidente ha riacceso un dibattito sulla sicurezza stradale e sul comportamento alla guida nelle aree urbane. A Viareggio, una città nota per le sue belle spiagge e le sue strade vivaci, si discute frequentemente della necessità di condizioni di traffico più sicure. Le autorità e i residenti chiedono che vengano prese urgentemente misure per prevenire simili tragedie in futuro. Si sottolineano che la sicurezza dei pedoni deve essere particolarmente presa in considerazione agli incroci. Inoltre, i media locali riportano le reazioni dei residenti, che si mostrano scioccati e in lutto per la perdita di una vita. Molti di loro hanno espresso il proprio disagio sui social media e chiedono un'inchiesta onesta sull'incidente. E in alcuni residenti richiamano l'attenzione sulla necessità che gli automobilisti agiscano con maggiore cautela, in particolare nelle aree ad alta frequentazione. In questo tragico caso, resta da vedere quali ulteriori informazioni emergeranno dalle indagini. Il caso di Cinzia d'Alpino e la tragica perdita continueranno a preoccupare la comunità di Viareggio, ben oltre le immediate conseguenze. Autore Anita Fache, martedì 10 settembre 2024.